Chi meglio di lui? Enrico Ricordi, un ex anche se per 6-7 mesi della metà Catania, poi si è approdato qui in Abruzzo nell'Acqua e Sapone Unigross. Che squadra è? Che cosa bisogna in qualche modo, tra virgolette, temere? Anche se voi, visto il vostro valore, non dovete temere sicuramente i siciliani. Ma sicuramente è una squadra che corre molto, che fa della sua arma principale il fattore fisico. Poi ovviamente a questo livello tutte le squadre hanno qualità, quindi ci sono molti giocatori di qualità. Abbiamo visto nell'ultima partita del campionato che comunque pur noi essendo un po' rimaneggiati sarà una partita difficile. E comunque tu essendo un ex, se dovessi indicare uno o due giocatori pericolosi del Catania? Ma ce ne sono tanti, tra due potrebbe essere il capitano, che è Carmelo Busumeci e Giosico. Insomma, secondo me sono i due giocatori più pericolosi. Come la state preparando? Che cosa vi sta dicendo in questa settimana il mister, considerando che dovete resettare completamente l'ultima giornata di campionato perché avete perso proprio lì, anche se la prima la giocherete qui a Pescara? Sì, i play-off sono un campionato a parte. Adesso si riparte da zero, noi abbiamo le nostre certizie, sappiamo che siamo comunque una squadra importante, una squadra forte. Prepariamo come tutte le altre partite, siamo carichi e non vediamo l'ora di cominciare i play-off. Senti, dal punto di vista tuo personale, l'arrivo qui in Abruzzo, come sta andando? Credo piuttosto bene, no? Sì, sì, ho cominciato bene, mi sono fatto, penso, trovare pronto quando Stefano si è fatto male. Adesso Stefano rientra o rientra la seconda o la terza, insomma, comunque io sono sempre pronto a dare il mio contributo.